L'acqua a Benevento è potabile. Dopo due giorni di tensioni l'emergenza rientra. Lo conferma dati alla mano il sindaco Clemente Mastella che in conferenza stampa sottolinea i valori entro la soglia anche di tetra cloroetilene e anche presso il pozzo sospetto di Pezzapiana. L'allarme rientra, non le polemiche. Il gestore dell'acquedotto Gesesa tramite i propri tecnici ha confermato che i controlli effettuati nei giorni scorsi hanno dato sempre parametri nei limiti. ARPAC aveva invece individuato mercoledì e comunicato all'ASL valori quasi 20 volte superiori di tetra cloroetilene. Non sono mancati gli attacchi sulla vicenda da parte dell'associazione Acqua Bene Comune. Il sindaco dal canto suo ha sottolineato che di fronte ai dati ricevuti non avrebbe potuto far altro che chiudere. Cosa abbia determinato quel valore così elevato è lo stesso Mastella che vuole accertarlo, ma respinge l'agonia mediatica su questioni tecniche. Firmata l'ordinanza di via libera, il sindaco ha anche provato a smorzare i toni citando Totò si lava chi è sporco, non chi è pulito, confidando sul fatto che la popolazione abbia usato nel frattempo le precauzioni del caso.